Rieccoci, benvenuti, buona giornata, in diretta la mattina, come sapete, Quotidiano Medicina, repliche nel corso della giornata. Sulle relazioni tra ciò che mangiamo e il cancro, i tumori, c'è sempre una vastissima letteratura e si può dire anche che ogni giorno ci sia un nuovo studio. Per parlarne a Quotidiano Medicina torna Gaetano Pellegrino, popolarissimo personaggio, medico, radiologo, senologo, perché oggi parliamo del rapporto tra cibo e tumori al seno. Anche da quello che emerge da EPIC, forse il più grande studio epidemiologico mai svolto su una popolazione coordinata dalla IARC, l'Agenzia Internazionale della Recife sul Canglo, che è un organismo appartenente all'Organizzazione Mondiale della Sanità, emerge che non c'è proprio una relazione diretta matematica tra l'assunzione di carne oppure uovo, latticini e il rischio di sviluppare un cancro del seno. Mentre la relazione esiste invece, come si sa, per altri tipi di tumore, per esempio quello del colon retto che è associato, come è noto, al consumo eccessivo di carne. Comunque alcuni cibi sono certamente fortemente sospetti di aumentare il fattore rischio del cancro al seno, ma è difficile accettare un nesso certo tra cibi dannosi e tumori al seno. È invece più facile individuare quelli che certamente giovano alla donna. Secondo lei, dottor Pellegrino, ci sono alcuni cibi che, anche se non c'è la matematica che ce lo dice, però sono a rischio per il tumore femminile al seno. Assolutamente, noi crediamo di sì. È quell'esperienza di tanti anni di tutto il gruppo ricerca, delle istituzioni del cancro, delle varie discipline mediche, che alcuni tipi di cibo, quali per esempio i grassi oppure quelli che stimano l'insulina, possono determinare un eccesso ponderale e questi eccessi di grassi, i cosiddetti non buoni, poi possono essere trasformati in molecole che stimolano la produzione di ormoni. Ed è chiara l'esistenza e la correlazione tra ormoni e cancro della mammella. Quindi nel ciclo vitale della donna durante il periodo suo fertile, gli ormoni androgeni, quindi anche i testosteroidi prodotti dalla donna, vengono stimolati dall'eccesso di grasso e invece nella menopausa l'eccesso di estrogeni. Diciamo che l'obesità è il primo nemico, quindi una cattiva alimentazione che porta ad avere un'obesità, un eccesso di grassi e quindi colesteroli e trigliceridi che poi vengono trasformati stimolando la produzione di questi ormoni sessuali. Mentre invece è più facile individuare quegli alimenti che certamente giovano alla donna e costituiscono un argine al rischio di tumore. Ecco vediamoli insieme. Innanzitutto le ciliegie scure, le ciliegie scure che sono ricche di antiossidanti, poco zucchero. L'olio di semi di lino che contiene questi lignani che io non sapevo che cos'era, non sono andato solo a documentarmi, possano proteggere contro i tumori estrogenodipendenti. Poi l'aglio insieme. L'aglio è un vecchio retaggio latino. Eh sì, è uno storico. L'aglio che addirittura frena, corregge i danni della carne nella teglia. Riducendosi dall'emissione di sostanze che aggerò oggi. Sì, sì, quindi l'aglio. Sì. E poi ecco il succo, il pompelmo, il pompelmo che può inibire... Ma in genere gli agrumi. In genere gli agrumi, anche le arance. Sì, le nostre arance rosse. Sì, qui il pompelmo perché probabilmente è più un anglosassone rispetto alle arance. Il tè verde, il tè verde storico insomma, riduce il rischio di sviluppare il cancro al seno e impedisce la propagazione delle donne che hanno già avuto la malattia. Questo è, diciamo, dovuto alle EGCG che è una sostanza impronunciabile per me. Non so neanche come dovrei andarla a trovare comunque. Poi il succo di melograno. Succo di melograno usatissimo nei paesi dell'Est, soprattutto in Turchia, che distrugge le cellule del cancro al seno lasciando solo le cellule sane. e può prevenire anche la formazione di nuove cellule del cancro al seno. Quindi sono, come diceva lei, tutti i frutti, tutti gli agrumi, diciamo. E poi il vino rosso. Vino rosso... Come antossidante. Sì. Guardi, molto bello quello che vediamo e quello che ci auguriamo di ingerire, di mangiare degli alimenti. Però diciamo che fa parte... Lo studio EPIC era anche una relazione tra ambiente e stile di vita. Certamente, sì. di alimentazione. Quindi dovremmo mettere tutto insieme. Una corretta alimentazione, uno stile di vita sano. Nel contesto ambientale. Nel contesto ambientale e possibilmente in città sempre più vivibili. E con meno PM10. Assolutamente. Con meno CO2. Anche perché noi in medicina sospettiamo che questo grosso aumento di tumori, quest'anno sulla mammella ne avremo quasi 17.000 in più. Poi ne parleremo con... Sì. Sì. Tra poco. Sia anche dovuto agli effetti tardivi di Chernobyl. Sì. Per cui tutte queste molecole radioattive che sono arrivate, giunte nei nostri campi, nelle nostre coltivazioni, poi comunque anche noi europei occidentali stiamo subendo a distanza di anni. Sì. E quindi stiamo pagando lo scotto di... A distanza. A distanza di anni. Sì. Di una cattiva gestione del nostro ambiente. Del nostro ambiente, sì. Quindi abbiamo visto il vino rosso, quindi il resvenatrolo, il licopene contenuto nei pomodori, lo sappiamo tutti. E poi la curcuma. Lo diciamo spesso. La curcuma, questo tubero che aiuta a prevenire il cancro a seno e la sua diffusione ai polmoni. La curcuma che bisogna andarla però a trovare, a cercare. Non è facile trovarla. Anche se è nei supermercati è un po' un... E poi ovviamente noi abbiamo aggiunto che sono tutte informazioni che noi diciamo come educational, per scopi educativi, non costituiscono suggerimenti. È sempre il medico che stabilisce alla fine che deve diagnosticare e poi trattare i problemi di solito. E poi esiste il paziente, non esiste la malattia. Poi esatto. È sempre il paziente, la malattia è relativa. Relativa, sì. Assolutamente. Dicevamo, diceva lei, i tumori al seno in grande aumento. Quest'anno si stimano 45 mila nuovi casi di tumori al seno in Italia, purtroppo con 11 mila decessi e più di 4 mila nuovi casi in Campania. E sono in crescita purtroppo anche i tumori al seno in donne sotto i 45 anni. Dottor Peregrino, un aumento dovuto secondo lei sicuramente ad un'aumentata capacità di diagnosi con le nuove tecnologie oppure c'è sempre questa persistente trascuratezza, la cultura della trascuratezza? È un... Diciamo che i problemi sono connessi all'insorgenza di nuovi casi di tumore della mammella multifattoriale. Stile di vita, ne parlavamo prima, ambiente, utilizzo di farmaci. Spesso si abusa di anticoncezionali in modo errato, senza il controllo del medico, quindi senza fare ulteriori controlli. E questa continua reticenza a non fare controlli senologici, controlli di prevenzione. che invece vanno fatti ogni quanto tempo. Diciamo che oggi con le nuove apparecchiature i tempi si possono anche ridurre, però io amo sempre dire che ogni donna ha il suo tempo. Cioè, anche lì, se esiste il paziente e non la malattia, o il paziente che ha la malattia e quindi ha un grado diverso rispetto agli altri, perché non possiamo dire che tutte le donne hanno lo stesso tumore. Anzi, ogni donna ha un tumore diverso, esprime recettori diversi, esprime una sua qualità di tumore diverso da un altro, quindi non è lo stesso cancro della mammella. Questo era l'errore atavico, storico, che commettevamo tutti quanti noi. Per cui, quando davamo una terapia, era una terapia uguale per tutti. Invece oggi la terapia oncologica dei miei colleghi oncologi è Tyler Ed, dicono gli americani, è fatta apposta per quel paziente. Assolutamente personale. Assolutamente. Quindi sicuramente poi in tutta questa multifattorialità entriamo anche noi radiologi che, grazie a queste nuove tecnologie, nuove apparecchiature, riusciamo ad avere un detecting di queste lesioni sempre più piccole. Quindi possiamo dire con grande gioia e tranquillità che le nostre donne potranno essere completamente guarite da questa malattia. E infatti parlavamo delle tecnologie, della prevenzione. La prevenzione delle patologie mammarie oggi si fa con proprio le tecnologie ultima generazione. Tra queste ne abbiamo già parlato anche qualche mese fa, mi pare, con lei proprio, ma è utile ricordarlo, la mammografia 3D, la tomosintesi, su cui tra poco dovremo vedere delle immagini. C'è questa mammografia straordinaria perché è in grado di agnosticare tumori che altrimenti, duco la 2D, sfuggivano. Sfuggivano, era un limite proprio della metodica. E quindi... Ecco qui, questa macchina che gira, è vero che... Ha una pendolazione, emette raggi in step differenti, sono nove step, per cui non c'è un continuum di radiazione verso la mammella, tant'è vero che questa mammografia di nuova generazione, che tomosintesi è una navigazione virtuale nella mammella, diciamo, rilascia il 40-60% di dose mancante alla paziente. E con un risvolto contraltare di un detecting maggiore, quindi individuazione maggiore di maggiore numero di lesioni. Anche di millimetri? Sì, stiamo parlando di 1-2 millimetri, stiamo avviando donne a essere operate con piccoli tumori da 1-2 millimetri, i cosiddetti carcinomi in situ, che sono, diciamo, la prima fase visibile del carcinoma infraclinico, perché noi sappiamo benissimo che il carcinoma già esiste nella mammella, solo che non abbiamo il potere risolutivo di poterlo vedere. Quando questo tumore e l'organismo perdono il loro equilibrio, uno preparare sull'altro, come succede spesso nel caso del tumore, quindi comincia a essere visibile e quella è la fase in cui noi possiamo intercettarlo. Ora, se noi abbiamo queste apparecchiature che stiamo vedendo, che sono bellissime, ci hanno ridato gioventù, io uso giornaliermente queste apparecchiature, non ritornerò mai più sui miei passi su vecchie apparecchiature, neanche per... Allora, un detecting precoce significa anche minore invasività nel momento della chirurgia? Assolutamente, sì, si, si apre a volte la discussione tra i radiologi e il chirurgo di come localizzare queste piccole lesioni per poi andarle a togliere, quindi chirurgicamente. E ci sono questi sistemi, per esempio c'è un reperaggio chirurgico che si chiama di Copans, cioè sono piccoli aghi in titanio che vengono infissi nella mammella con una punta, per cui il chirurgo seguendo il decorso di questo ago, dove troverà la punta, lì sa di trovare... E' una chirurgia ecoguidata, insomma, sì. Diciamo radioguidata. Radioguidata, sì. Radioguidata, sì. Quindi tomosintesi significa stratificazione, voi vedete in 3D, quindi la profondità, è una specie di viaggio... Viaggio nella mammella. Viaggio nel seno, viaggio nella mammella che prima non era possibile fare... Praticamente dopo aver compresso meno rispetto al precedente tipo di mammografia, perché mentre prima c'era bisogno di comprimere 14 kg per centimetri quadrati, oggi siamo scesi a 5-6 kg per centimetri quadrati, quindi meno dolore, meno pressione. Questa apparecchiatura che ha non più le pellicole, bensì ha un fascio di radiazioni che attraversano questo piccolo strato mammario, al di sotto del quale c'è un detettore, una fila di detettori che raccolgono questi raggi, i quali poi vengono trasmessi a un calcolatore, a un computer, che analizza e ricostruisce punto per punto tutto il volume della mammella, dopodiché il radiologo in fase successiva può analizzare questa mammella millimetro per millimetro, quindi perciò riusciamo a trovare tumori di piccola taglia e che prima non riusciamo a trovare, prima la mammografia era solo una media, solo la pellicola di tutta la mammella, quindi abbiamo avuto questa grossa arma diagnostica a disposizione e mi auguro che tutti i centri che si occupano di mammella, meglio prima, si corredino di questa apparecchiatura. E poi lo screening, lo screening che è indispensabile con una periodicità, oggi diceva lei, anche un po' più allentata, però bisogna fare un paio di volte all'anno per le donne, dipende dall'età forse. Diciamo dipende dalla donna, dalla mammella, ogni donna ha il suo timing, che significa? Che ogni donna ha il suo tempo di controllo, una donna giovane potrebbe fare pure un controllo a due anni perché è una mammella semplice, non ha problemi particolari, poi può darsi pure che una donna anziana abbia tante piccole complicazioni, tanti piccoli noduli oppure delle formazioni un po' dubbie, quindi fa un controllo più stretto, quindi non è legato all'età, è legato al tipo anatomico di mammella, cioè se la mammella è complicata faremo controlli più ristretti. E qui scatta anche il medico di famiglia che ovviamente dà i suggerimenti giusti. Ma deve essere un concordato tra radiologo, medico di famiglia e paziente di stabilire un giusto iter diagnostico e di screening. Grazie ancora dottor Pellegrino. Grazie a voi e buon immagino. Per averci seguito, buona giornata, linea cammine a Mario Argentino in regia. Grazie a voi e buona giornata.